Ma come si suona il clarinetto basso? Questo strumento come impostazione di base non si differenzia molto dal parente soprano. Mano destra sotto e mano sinistra sopra. È importante tenerlo il più dritto possibile. Ma se questo non ci riuscisse per vari motivi, cerca la postura più corretta e mai troppo inclinata. Per una corretta emissione cerca sempre di mantenere il busto il più eretto e naturale possibile. Per fare questo puoi usare anche dei cuscini oppure regolare il puntale dello strumento. Per l'imboccatura mantiene da circa a 45 gradi, variabili in base ad esigenze e necessità.